Amici 22, Immanuello pensa a una in bilico Ludovica, Samue e Maddalena. L'inizio del day team di amici del 25 novembre è stato dedicato a una notizia che ha spiazzato i ragazzi. Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha informato i tre allievi del team capitanato da Immanuello. Ovvero Ludovica, Samue e Maddalena, del fatto che il loro insegnante ha richiesto un casting speciale. In lui vige il pensiero di sostituire uno tra Ludovica, Samue e Maddalena, e molto dipenderà anche dai voti che gli allievi otterranno nelle prossime gare di ballo. Nessuno degli allievi di Amici 22 è al sicuro, questa è la notizia che è emersa dalla puntata pomeridiana che è andata in onda venerdì 25 novembre. La presentatrice ha informato l'intera classe che Immanuello ha fatto una richiesta ufficiale alla produzione, poter presiedere a un casting speciale incentrato sui ballerini pub. Il professore è alla ricerca di qualcuno che rappresenti il suo genere di danza nel migliore dei modi. Come se non fosse soddisfatto di chi lo fa attualmente all'interno della scuola. I talenti a rischio sono tre, Maddalena, Ludovica e Samue, ovvero quelli che fanno parte della squadra da Immanuello. Anche se Maria De Filippi non l'ha detto apertamente, i ragazzi hanno capito che Immanuello sta pensando di sostituire uno di loro con un talento esterno che ritiene più preparato. L'allieva che ha più paura di andare a casa è Ludovica, la giovane non ha brillato nelle ultime puntate e rispetto ai colleghi si sente più debole e soprattutto tecnicamente. Nel corso del Daiti Mediamici, i talenti hanno potuto vedere una delle ballerine che l'insegnante ha adocchiato ai casting. Si chiama Claudia ed è l'ex fidanzata di Gianmarco, che ora è legato a Meriden, anche lei nella classe della 22esima edizione. Il docente di Danza e Pappi in una delle prossime puntate potrebbe avvalersi della possibilità che tutti i membri della commissione interna hanno a disposizione, sostituire un alunno della propria squadra con un esterno. Senza dover passare da una sfida o da un'eliminazione. Giovedì 24 novembre è stata invece registrata l'undicesima puntata di Amici 22 e le anticipazioni fanno sapere che Emanuello non ha ancora palesato la sua decisione finale sull'eventuale sostituzione. Quasi l'intero speciale, che sarà trasmesso in tv domenica 27, è stato dedicato alla strigliata che Maria De Filippi ha fatto ai ragazzi della scuola per le pulizie. In seguito all'ennesimo rimprovero sull'igiene della casetta rimasto inascoltato. La produzione ha deciso di prendere un serio provvedimento disciplinare nei confronti dei talenti meno collaborativi. Mattia, Ndg e Gianmarco sono stati messi in sfida immediata per punizione, i primi due hanno vinto e sono rientrati nel cast. Mentre il verdetto sul ballerino è stato congelato perché la maestra Celentano ha chiesto del tempo per pensarci. A rischiare grosso sono anche Aaron e Tommy Dali, altri due titolari che si sono distinti in negativo sulla questione pulizie della casa dove vivono dallo scorso settembre. Durante la registrazione pare che Maria De Filippi fosse furiosa con i ragazzi, secondo alcuni mai vista così prima.